buonasera a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale dove cercherò di analizzare o di dare un punto di vista della situazione come si è evoluta in questi giorni, non è la mia opinione di vista in generale perché io come persona non sono niente, ma una visione generale di come viene inquadrata attraverso la sinistra comunista in generale, questa situazione sinistra comunista che proviene da molto lontano, cioè dal prima del 1921 e si rifà ad Amadeo Bordiga. Allora la prima cosa che devo assolutamente dire, perché se ne parlano tutti i giorni, se ne sono, si sono svolte il 4 marzo di quest'anno e i risultati che si sono avuti. Bene, io mi rifaccio a quello che è stato scritto dall'organizzazione NP1 perché secondo me è quella che momentaneamente dà una visione più precisa della situazione, questo è il resoconto che loro fanno normalmente alla loro teleriunione e chi voresse può anche chiedere di partecipare alla teleriunione di n1quinterna.org e la leggo perché secondo me è lungimirante ed è molto chiara della situazione attuale e dice che questo è il resoconto della teleconferenza del 6 marzo e ha parlato delle elezioni politiche in Italia e quali sono le condizioni? E quindi questo è il bello che si fa prima una visione di com'è la situazione e poi uno fa le proprie considerazioni e questo è il giornalismo veramente puro dove non è quello che succede comunque intervallato dalle proprie considerazioni. Questo è successo e queste sono le nostre considerazioni dell'organizzazione NP1 che anche lei si rifà alla sinistra comunista del 21, ad Amadea Bordiga e tutto quello che poi è stata la ricostruzione della teoria maxista in Italia. Bene, dice così, il Movimento 5 Stelle è risultato il partito con il più ampio consenso elettorale, mentre la coalizione di centrodestra ha raccolto, grazie a una lega nazionalista che ha fatto da trai, anche questo è bello vedere come è stata l'evoluzione, come c'è stato questo modo di cambiare della lega, ieri sera l'ho vista, una volta cantavano con Bossi il Nabuco per distinguersi, ieri sera a Losarno su questo video, su questo clip cantavano Fratelli d'Italia. Bene, comunque grazie a una lega nazionalista è maggior numero di voti senza però raggiungere la soglia necessaria per formare il governo. Notevole, anche se scontato, il tracollo del PD. La situazione di ingovernabilità che si è determinata dopo il voto, tra l'altro largamente prevista, vede un tripolarismo che complicherà il lavoro del Presidente della Repubblica. Nulla di nuovo per il panorama europeo in cui non mancano i precedenti paesi come Belgio, Olanda e Spagna sono rimasti per mesi, il Belgio da ricordare è stato quasi per due anni senza governo e ultimamente la stessa sorte è toccata anche alla Germania, proprio questi giorni la Germania si è, ha fatto la coalizione, la Gross Coalition con la Merkel che ha il terzo mandato, che solo dopo molte settimane in considerazione è riuscita a dar vita ad un governo di larghe intese, la famosa Gross Coalition. Ecco, questa è la situazione, le considerazioni politiche quali sono? Il capitalismo quindi perde energia, gli stati faticano a controllare se stessi, tramontano le garanzie che facevano da collante sociale come il welfare, il posto di lavoro e pensione, sapete che queste sono state più volte toccate dalla riforma e tempo fa, ieri mi sembra si ricorreva all'uccisione del gius lavorista dove si iniziavano a creare le, ucciso dalle brigate rosse, le prime flessibilità del lavoro, si parlava di mettere in discussione l'articolo 2018, siamo arrivati molto molto oltre, no? Comunque, dice welfare, il posto di lavoro e pensione e con esso si dissolvono anche le sovrastrutture politiche come i partiti e i sindacati. Sappiamo per la teoria marxista che le sovrastrutture sono proprio i partiti, le organizzazioni sindacali, la legislazione eccetera, perché servono a mantenere la struttura, la base che è quella della produzione del sistema capitalistico, della proprietà privata basata sul lavoro salariato, dove la parte del lavoro, una parte del lavoro, se le appropria no? Chi detiene, chi ti paga in pratica il plus valore, il plus lavoro è il plus lavoro, il plus lavoro è il plus valore che viene creato dalla forza lavoro, questo è il lavoro salariato. Quindi, e con esse si risolvono anche le sovrastrutture, diceva questa organizzazione, soprattutto come i partiti e i sindacati, sottoposti a una critica incessante e distruttiva da parte del movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti. Ecco, loro prendono questo piccolo motto che è il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti e secondo me è molto interessante questo passaggio, perché questo passaggio non è loro, ma questo passaggio è tratto dall'ideologia tedesca del libro di Marx ed Engels del 1846, dove questi pensatori dicevano che il comunismo è possibile empiricamente solo come azione dei popoli dominati, tutti in unica volta e simultaneamente e ciò presuppone lo sviluppo universale nella forze produttive e le realizzazioni mondiali che il comunismo implica. Il comunismo per noi, cioè per loro e chi si rifà a loro, io e anche i compagni di N1, non è uno stato di cose che debba essere instaurato con un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi, ma chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti e questo va visto nel senso viene visto così che il comunismo è, il capitalismo deve sempre comunque rivolgere il suo stato di cose e socializza sempre di più, nonostante tutte le contraddizioni e tutte le sofferenze che chi lavora subisce, ma va verso quell'idea della comunità, verso quell'idea della pianificazione, della produzione, verso quell'idea di comunismo, quindi Marx giustamente diceva io non invento nulla, il comunismo si vede, basta avere gli occhi per vederlo, sono sciocchi quelli che dicono che è pura utopia questa. Le sovrastrutture invece tengono duro, le sovrastrutture sono quelle della proprietà privata, di mantenere che i mezzi di produzione e le ricchezze nazionali siano proprietà di qualcuno, in realtà invece stiamo vedendo che l'1% che detiene è soggiogato il 99%, se noi guardiamo bene la cosa deve finire prima o dopo. Non so i termini, ma comunque deve finire. Ecco, la dicevano, critica incessante e distruttiva da parte del movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti. Destra e sinistra sono categorie non più corrispondenti a un quadro istituzionale che è invece sempre più frammentato e sfumato e vede aggregazioni governative che si risolvono inevitabilmente in deboli alleanze trasversali, in altri tempi ritenute scandalose. Ormai destra e sinistra non esiste più. Il dato generale che emerge è quello di un sistema dei partiti che colloca su di un piano separato rispetto ai cittadini che dovrebbero rappresentare. Significativa in tal senso la dissoluzione, quindi la sgregazione, la polverizzazione, l'annientamento quasi definitivo della socialdemocrazia. Un filone politico che si presentava come l'interprete della classe operaia e lo stesso tempo delle mezze classi. Sappiamo che le mezze classi attraverso queste strutture, questi organismi che si chiamano partiti, ma di parte hanno poco, nel senso che difendono queste mezze classi che sono le prime a muoversi perché vedono venir meno le garanzie o i privilegi che hanno vissuto finora, hanno schiacciato sempre più dalla concorrenza quindi dei grandi gruppi a proletarizzarsi e loro non vogliono, quindi si muovono queste mezze classi. Le abbiamo viste anche lungo la storia, Marx le ha analizzate bene, basta leggere il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, ma anche gli albori per esempio del fascismo attraverso l'impresa Fiumana e la carta del Carnaro di Danunzio, se leggiamo bene sono le mezze classi che hanno anche al proprio interno queste indicazioni proletarie, no verbalmente, però poi alla fine si comportano, si sono comportate e si comporteranno nel modo di voler schiacciare il proletariato, cioè le persone che creano la ricchezza. Già nel secondo dopoguerra la sinistra comunista italiana, proseguo quello che loro dicono, pronosticò la grande confessione, ovvero la missione che in Russia non c'era mai stato socialismo, bensì capitalismo. Prima o poi i partiti che avevano abbandonato il programma storico del comunismo e iniziato il percorso di degenerazione, sarebbero stati costretti a gettare la maschera. Su questo Amadeo Bordiga dedica un grossissimo volume, ma non è suo, è dell'organizzazione da cui faceva parte, si chiama La struttura economica e sociale della Russia ad oggi, ed è stato, è un grosso volume che è stato pubblicato in vari spezzoni nel giornale, varie puntate nel giornale che loro rappresentava la linea della sinistra comunista, si chiama Programma Comunista e analizza proprio in anni ancora impensabili che in Russia si stava facendo capitalismo e non l'edificazione del socialismo, ma abbiamo visto prima che già Marx diceva che non c'è niente da edificare, ma è uno Stato, è un movimento, il comunismo reale che abolisce lo Stato di cose presenti e quindi infatti nell'89 hanno scatenato la lunga frana politica che ha portato alla situazione odierna. La vera causa della debacle del PD è da ricercarsi nella perdita della sua ragione d'essere, gli eredi del PC si sono talmente integrati nel sistema, facendo proprio alla logica della governabilità e del credo capitalistico che sono arrivati a realizzare misure economiche che neanche il governo Berlusconi o quello di Monti erano usciti ad attuare. Una per tutti, vi ricordo la Jobs Act, però poi ne parleremo. E quindi analizza il Movimento Cinque Stile, è cresciuto in parallelo allo sviluppo dei grandi movimenti di massa come l'Indignados in Spagna e Orpi Wall Street negli USA. Nati sull'onda della primavera araba, al suo esordio il Movimento, coi suoi Met-up, il Flash Bocco o il Waffle Day, hanno rappresentato una novità nello sclerotizzato quadro politico italiano, pur non fuoriuscendo mai, questo è importante, dai canoni borghesi e tuttora affrontando temi come la fine del lavoro, il reddito di cittadinanza e l'importanza dell'organizzazione reticolare, tenta di agganciarsi al futuro per meglio intercettare quanto ribolle nella società. L'Economist, attento osservatore dei fatti italiani, ha pubblicato il 1 marzo un articolo intitolato Povera Italia, in cui dipinge una situazione economica e politica molto precaria. Il bel paese è in cattive condizioni per resistere alla prossima recessione, gli servirebbe un governo responsabile e riformatore, ma è improbabile che lo ottenga il 4 marzo. Insomma, se l'Italica borghese non cambia verso, porterà quello che è l'ottavo paese del mondo in termini di PIL, dritto verso la catastrofe, trascinandosi dietro il resto dell'Europa. Questo era quello che diceva The Economist. I risultati delle elezioni sono un termometro della situazione sociale, specie se li intendiamo come polarizzazione, cioè catalizzazione, cioè la gente si aggrega, degli atomi sociali, cioè come un processo fisico. Esiste un cervello sociale confuso e disorientato finché si vuole, che si è reso conto che questa situazione aveva bisogno di un reset, come quando lo facciamo con il personal computer, di una ribollizione sui nuovi parametri. Un general intellect che reagendo a una situazione materiale di disoccupazione e povertà ha portato a votare il 73% degli aventi diritto convergendo sul partito che loro percepivano come il meno peggio, l'unico che dice vagamente ciò di cui questa società avrebbe bisogno. Li avremmo sentiti, quindi delle riforme sulle pensioni, sul lavoro, sul reddito di cittadinanza, eccetera. Quindi la gente è andata a votare convergendo su quel partito che secondo loro era quello che riscontrava il meno peggio, quindi si sono polarizzate in queste due parti. La molla che fa scattare una rivoluzione o una sommossa non è solo una miscela di miseria, precarietà e sofferenza, non esiste limite purtroppo a ciò che l'uomo ha dimostrato di saper sopportare senza ribellarsi. Le rivoluzioni scoprino perché si accumulano a potenziale indistinto, somma di tante pulsioni individuali che, come molecole e un gas riscaldato, sono riconducibili a una media che produce effetti dirompenti. La soglia ce la aggiunge quando molti fattori incogniti entrano in sintonia portando la società a polarizzarsi in scriamenti opposti e irriducibili. Prima si muove la pancia, prima si muove la pancia e poi per ultimo il cervello e questa è una stoccata ai gramsciani che bisogna capire se la gente non capisce, non si muove. Purtroppo siamo così. Prima si muove la pancia e solo per ultimo il cervello. Il livello governativo, la situazione risulta alquanto complicata. Potremmo vedere all'opera trasformismi non nuovi in Italia oppure la formazione di un governo tecnico senza alcun politico, come richiesto da molti burocrati europei. Ne abbiamo parlato e loro qui ne hanno già parlato e accenato tante cose. Altro dato significativo che loro mettono in risalto è quello di Grillo che notano questo allontanamento del Grillo al fondatore del Movimento 5 Stelle a questa aggregazione. Resta a capire se si sia trattato di una mossa politica, quella di differenziarsi, di staccarsi, per racimolare più voti, sull'intenzione sia veramente quella di distanziarsi dalla politique politician. Significativo l'articolo pubblicato il 3 marzo e il 3 marzo sul blog in merito alla biodegradabilità del Movimento, in cui il comico mette in guardia i tastellati a rischio di integrarsi nel cretinismo parlamentare, rivendicando il suo ruolo di garante. In natura esistono le estinzioni. Quando un organismo o una specie non è più adatto a vivere in un dato ambiente, sparisce. I Grilini sostengono di essere un movimento nato dal basso, ma accettando i meccanismi della politica istituzionale, dimostrano di essere parte di questa casta che volevano spazzare via. L'omologazione la si è già vista sia a Torino che a Roma e il non operato dei sindaci. Il Movimento 5 Stelle da una parte parla del futuro della società e delle nuove tecnologie che tutto trasformano, sia il lavoro che il tempo libero, mobilità. Dall'altra invece accetta la logica della compatibilità capitalistica e l'ideologia lavorista. Per ottenere il reddito di cittadinanza i disoccupati dovranno fornire disponibilità al lavoro, presso i centri per l'impiego, offrirsi per progetti comunali utili alla collettività, frequentare percorsi per la riqualificazione professionale, effettuare ricerca attiva al lavoro per almeno due ore al giorno, comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del reddito e in ultimo, ma non per importanza, accettare uno dei primi tre lavori offerti. Insomma, borghesi e conclusioni, e piccoli borghesi non possono inseguire quello che succede, senza anticipare niente subendo le trasformazioni. Lo stesso discorso vale per i sindacati e questo è molto importante. Anche si invia, secondo loro, di estinzione. Infatti li abbiamo visti tenersi in mano, nella mano come tre moschettieri con Calenda, il capo della Confindustria ultimamente, perché hanno siglato il patto di quale saranno gli aumenti salariali legati alla produttività e poi ne parleremo. I sindacati invia distinzione. Nella conferenza di programma, la CCL ha proposto di governare l'innovazione, contrattare la digitalizzazione. Di fronte a tali parole, qualcuno potrebbe pensare che finalmente si accorta dei milioni di succupati e dei lavoratori ultra precari della gig economy, cioè l'economia dei lavoretti. Ma invece si tratta solo di un aggiornamento di linguaggio. Del solito tanto fumo e poco arrosto. Ed è questo che qui finisce. Questo è quello che loro fanno, la NP1 che io condivido sulle considerazioni delle votazioni che abbiamo avuto. Comunque potete vedere, lo andremo anche a leggere sul sito loro che è Quinterna.org. E qual è il movimento che abolisce lo stato di cose attuali? Il movimento è quello del massimo profitto, il movimento è quello di dissolvere tutte quelle categorie che fino a ieri erano sicure come le classi medie. E uno degli articoli che sono usciti in questi giorni attraverso il sito l'inchiesta.it è quello lavoro sì ma un giorno a settimana, quindi l'aumento della povertà. Il dramma nascosto degli occupati a bassa intensità. E l'articolo dice, è del 13 dicembre di quest'anno, gli occupati a bassa intensità lavorativa crescono in Italia. È un forte indicatore del rischio di povertà. Il problema è decisamente meridionale, ma anche strutturale dell'habitat economico italiano. E quindi parlano che c'è un meno del 20% del tempo di lavoro, cioè la gente lavora sempre meno, trova sempre più questi lavoretti saltuari. Ma visto che il mio tempo sta per terminare, vi accenno solo alcuni bellissimi articoli usciti in questi ultimi periodi, in questi 15 giorni. un articolo è del martedì 13 marzo, questa è di Repubblica, dove dice italiani mai così poveri, il 23% a rischio, diseguaglianza al top. Ma non solo, ma quello che è interessante è capire come per estorgere sempre più profitto ai lavoratori c'è bisogno di aumentare l'intensità del lavoro, quella che le organizzazioni sindacali poi la chiamano produttività del lavoro, cioè eliminare la porosità, così viene detta, del lavoro. è un articolo apparso sull'internazionale del 16 marzo 2018, parla proprio su Amazon, come si aumenta l'intensità del lavoro. e su un magazzino degli Stati Uniti è andato a analizzare proprio Amazon, dice per contenere i costi l'azienda non solo deve avere decine di depositi, ma deve anche gestire in modo efficiente. mentre al personale dei negozi tradizionali può succedere di stare ore senza fare niente, i dipendenti di Amazon, cioè gli stivatori che sistemano la merce negli scaffali, i raccoglitori che la prendono dagli scaffali, gli imballatori che la preparano per spedizione, non si fermano mai. i raccoglitori hanno un dispositivo portatile per conoscere l'aspetto di un oggetto dove si trova e come raggiungerlo nel miglior tempo possibile. Per rispettare gli standard di velocità in un turno recuperano mille prodotti e percorrono più di 20 km. E questo è niente altro che la conferma di quello che dice Marx sul macchinismo, dove dice quando fa la distinzione da plus valore assoluto e plus valore relativo. Il plus valore assoluto è quello dell'allungamento della giornata del lavoro. Il plus valore relativo è quello dell'intensità del lavoro, cioè nel più breve tempo fare più lavori. e su questo lo analizza nel libro primo del capitale e dice che se l'orario di lavoro, l'ora di lavoro, l'orario di lavoro è limitato dalla legge, quindi tutto quello che viene portato, quello che il capitale può fare è quello di aumentare l'intensità del lavoro, quindi eliminare la cosiddetta porosità del lavoro. Porosità come i poli, quindi fanno in un'ora tu puoi produrre 10, ma se diminuiscono la porosità produci 15 in quell'ora, produci 20 e dice adesso l'ora più intensa della giornata lavorativa di 10 ore e contiene tanto lavoro, ossia forza lavoro, spesa per quanto l'ora più porosa della giornata lavorativa di 12 ore e anche di più. Il suo prodotto ha quindi lo stesso valore, un valore maggiore di quell'ora e un quinto più porosi. Quindi se io riduco la porosità, le pause, faccio lavorare al massimo i lavoratori, ho meno porosità e più profitto. Ma è chiaro che tenere questo ritmo, uno non resiste a questo ritmo e quindi il fatto di avere questi lavoretti che lavori una volta alla settimana, magari 4-5 ore, però una concentrazione talmente forte che hai bisogno per forza di cose poi riposare. Però attraverso questo meccanismo della flessibilità, in questa giornata assumo uno e lo sfrutto il massimo, e il giorno dopo ne assumo un altro e lo sfrutto il massimo e nel frattempo gli altri. E quello che ho fatto lavorare oggi lo faccio riposare domani in modo tale da poter in continuazione sfruttarlo il massimo. Si parla di porosità del lavoro, ma noi vogliamo questa società, ma noi vogliamo questo sistema. penso che questo sistema sia più che altro disumano e non umano, finalizzato al profitto e non al bene della specie. E' un punto di riflessione, se avete qualche punto di riflessione scrivete pure anche voi qui su Radio Science, e sarò ben, leggerò bene e con molto, diciamo, sarò contento di discutere con voi delle vostre opinioni su questo. Grazie di avermi ascoltato, scusate se sono stato un po' lungo questa sera, ma ce n'era bisogno fra 15 giorni. Ciao a tutti! Grazie a tutti!